Il momento del Muse, voi sapete cos'è il Muse Salvanei? Sì, allora sentiamo dalle amiche del Muse che sapete dietro quel grande palazzo ci sono persone che pensano come attirare ogni anno i ragazzi e i bambini. Prego, Samuela Cagliari e Stefania. Grazie Diego, intanto buongiorno a tutti, io vi porto i saluti del nostro direttore Michele Lanzinger che è anche lui impegnato in un altro incontro ma davvero con l'anima e col cuore è qua. Noi del Muse amiamo molto questa iniziativa da sempre, dall'inizio e quindi ci fa molto piacere ed è bello stare tutti insieme, anche sotto la pioggia. È bello vedervi tanti qua con tanti ragazzi. Io davvero passo subito la parola alla collega, alla dottoressa Tarter che ha seguito nel vivo e nel cuore quello che il Muse ha creato insieme ai propri mediatori scientifici e culturali laggiù in fondo. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. È sempre un piacere ritrovarsi e tornare qui al parco e appunto collaborare con tante altre realtà per riuscire a fare dei laboratori a cui tutti possano appunto partecipare. Il laboratorio di quest'anno che portiamo si chiama 30 cm sotto le tue scarpe e parla di suolo e di tutti i piccoli invertebrati che vivono appena sotto i nostri piedi e che noi non riusciamo a vedere perché appunto fanno parte di tutta questa microfauna. Attraverso questo laboratorio possiamo capire come è strutturato il suolo e riuscire a vedere anche attraverso appunto l'aiuto dei nostri pilot e tutti questi piccoli invertebrati che popolano il suolo. Ciao! Ciao! Buon rientro! Ciao! Ciao!